Approfitterei appunto in questa sorta di dualismo, di parallelismo che abbiamo cercato di costruire per invitare a recitare una sua poesia un poeta tiesino che oggi è presente in sala, Angelo Fadda, che ha con piacere raccolto questo invito, quindi lo inviterei nuovamente a prenderci parte di grazie. Un saluto per tutti i suoi presenti e i suoi familiari e i parenti che già potessi finiti al finisimo feio, che oggi mi stanno mettendo in questa sala e che mi guarda le mani a leggere in questa occasione è una poesia mia. Deo ha commentato di me da una poesia mia, quasi qualche andata giovane, ma penso che mi prendi la presia sua, in questo libro che non l'ha lasciato. Perché devo leggere questa poesia che prende una poesia mia, lo sapete a comette a tutti i modi dei suoi tempi e a tutti i suoi sentiti, perché l'ampio dà il suo cuore. Consogliata che l'ampio dà il suo cuore ha perso si incupito di costruire, a suoi tempi che viene dato il suo che viene dato il suo sabore. Il suo cuore ha perso si incupito di costruire, e il suo cuore ha perso si incupito di costruire, e con le nostre passi di signori e di spumare, e con le nostre amiche di creare. Per disabito che in fase di d'inghera fino a soffrire il disvenzamento, che bisognerebbe la sua intripermento, la sua scommidea, la sua scommidea, la sua scommidea. Un profetto, che nel contatto di recrèo, che sa bella, sa quando cura, a sua sentita, sa mora e segura, che non esagisce il sinolo a me. Saverà la nanti lipponesa, le verità desavero ferisi, la sariglione, sa iana, la berisi, la canata desavisionese. E me le vende, pinto salimentase, ma li sa gattase un dù di camparu, il suo verso, bramidu che descaru, vi infiorasi sticcos e sementase. E su semenes e broccan desa piccu, la sagascia, di cui nasa prettu, che a noi incasci un battimasi in prettu, intengere devorose sulle piccu. Con che amore che dà so a pensare, ha prenisolto con tuo lampiduoso, e in consono a te che desigoso, ha con un luogo in ore mutare. In memoria mi dà so a boioso, il suo passato è ancora che munisi, la sua via che era l'ultima munisi, dell'utena rappresenta sempre noi. Deo è andato appreso dal torpeggioso, non lascio verso il cosino il dito, ha subocchio esso le nuove consiglie, le dò con giudo e spiega se sono epposo. Grazie.